La gestione dei beni culturali e paesaggistici del Molise finisce nella bufera. Le organizzazioni sindacali di categoria di CGL e Cisle Will denunciano l'atteggiamento di totale chiusura assunto dal direttore regionale Gino Famiglietti, una situazione che si trascina ormai da un paio d'anni e della quale sono state investite anche le segreterie nazionali che oggi hanno mandato i propri rappresentanti a Campobasso per sostenere i colleghi del Molise. La normativa prevede che vi sia un corretto confronto su alcune materie di natura sia economica che di altro genere e ormai sono un paio d'anni a cui il direttore regionale non fa assolutamente nessun confronto provocando naturalmente anche un disagio sia da parte dei lavoratori sia da parte delle organizzazioni sindacali che porta naturalmente un documento a quello che è tutta l'organizzazione dei beni culturali. Il Ministero è la presenza dello Stato sul territorio per svolgere una funzione fondamentale che è quella prevista dall'articolo 9 della Costituzione. In queste condizioni il Ministero non svolge il suo ruolo istituzionale, non lo svolge dal punto di vista della tutela e non lo svolge dal punto di vista della valorizzazione. Questo nostro dimostrare oggi è per la grave irresponsabilità in cui si è posto il sovrintendente di questa regione poiché abbiamo le relazioni sindacali interrotte da circa un anno e mezzo. Credo che ci sia proprio una mancanza di trasparenza in questo caso delle attività amministrative.